Salve a tutti e benvenuti a questo appuntamento artistico agli streaming a cura degli allievi della sezione classica della Scuola Civica di Musica di Ruzzano. Io sono Giuseppe Lopregiato e sono il direttore della scuola. Un appuntamento che avremmo voluto portare in presenza ma che purtroppo per i motivi che tutti conosciamo non è stato possibile. Ma facendo ricorso alla tecnologia riusciamo comunque ad arrivare a voi e quindi ad offrirvi un momento di vita insieme in compagnia del meraviglioso linguaggio musicale. Prima di dare inizio a questa chermesse voglio ringraziare il cuore e tutti i docenti per l'ottimo lavoro svolto in questo complicato anno scolastico. Voglio ringraziare tanto gli allievi per la passione e l'impegno con cui hanno seguito il percorso di studio. Ringrazio molto le famiglie per aver sostenuto in maniera forte i nostri ragazzi in questo cammino di crescita. Ringrazio tutti voi per l'affetto che ci donate sempre. Vi invito a seguirci per i prossimi incontri che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane. Ringrazio infine l'amministrazione comunale, l'amministrazione AMA per il sostegno che ci offre sempre e per essere intervenuta sempre per risolvere delle problematiche che si sono presentate nel corso dell'anno. Quindi a questo punto non mi resta che lasciarvi in compagnia della musica. Grazie ancora a tutti e buona vita in compagnia della musica. Arrivederci e a presto. Grazie. 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 grazie a tutti 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 buonasera grazie a tutti 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 mi chiamo grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti grazie 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 a tutti adesso grazie a tutti 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 grazie a tutti